buongiorno amici del canale approfitto delle piogge intense che ci sono state in nottata e di prima mattina per venire a fare quattro lanci perché tutto quello che si è riversato in mare a mio avviso sotto costa potrebbe portare qualche bel predatore e niente ho deciso di venire a fare un paio d'ore ho messo già sotto un mucio lucir da 45 grammi color argento a mio avviso infallibile non ha mai sbagliato un colpo vediamo se le mie intuizioni sono più o meno giuste almeno qualche alletteratino dovrei portarlo a casa certo le aspettative sono quelle del bel servo però ho un bel bar magari però ci accontentiamo di quello che verrà a dopo un po' non solo girare un anno d'assegno qualche alletterato alletterato oh aspetta male ma di buona dimensione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.